Carum Shandok, buongiorno, siete pronti per la prima gara della storia di Formula E? Buongiorno, molto felice di essere qui in Beijing. È una felicità fantastica, la prima gara di Formula E. Sono molto entrati, è nuovo, è una nuova avventura per noi, è una forma completamente diversa di gara di gara, una gara di gara di gara. Sono molto entrati. Qual era la più grande sorpresa che hai trovato in questo tipo di gara? Penso che il suono, perché non puoi sentire nulla, puoi sentire il vento. E' una nuova esperienza. Ma si trovi a questo. Penso che anche con le gara di gara, non è una gara di gara, con i gara di gara, è molto nuovo. Molto da imparare, ma è lo stesso per tutti. E' molto bello che hai fatto la Formula 1 raci, e poi hai deciso di fare questo tipo di gara, perché credo che sarà il futuro. E' il futuro, perché io seguo i gara di gara di gara per molti tempi. Penso che è un progetto molto interessante per tutti. La tecnologia è molto nuova, e se guarda i gara di gara e il mondo, molti gara di gara di gara di gara e di gara. Quindi, spero che ci vediamo in questo campion, ci puoi imparare in questo mondo, e veramente promuovere la mobilità elettrica. Penso che questo è il messaggio della campion. Quindi, sì. È un'importante role che la campion. Penso che la campion. In l'automotive mondo. Per noi, ovviamente, siamo i gara di gara di gara. Siamo competendo per ottenere i migliori risultati. Siete preoccupati con la cambiata di gara? No, no. È una cosa che abbiamo praticato, e non è una cosa così grande. In Le Mans, sono riuscito a riuscire in e fuori di gara, quindi non è qualcosa di nuovo. Grazie, Karuma. Grazie mille. Grazie.